Ciao ragazzi, oggi come già appena annunciato ieri sera la diretta delle due e mezza non ci sarà perché appunto ieri sera la diretta è stata abbastanza intensa. Per chi se l'è persa c'è stata la diretta del lancio del nuovo singolo ovvero Correre nel Buio firmato 900, quindi se volete andare a sentire il nuovo singolo potete farlo su Spotify e su tutte le piattaforme digitali scrivendo apostrofo 900 e poi Correre nel Buio. Ci vediamo comunque domani, non mancate e soprattutto nelle prossime dirette faremo un giveaway ovvero io darò per alcuni fortunati la possibilità di avere gratuitamente il nuovo singolo Correre nel Buio in mp3 con tanto di copertina, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando ci sono le dirette e ci vediamo domani in diretta qui su PM Productions. Quindi intanto andate a sentire il nuovo Correre nel Buio di 900 e poi a presto con tantissime altre novità perché ci sono tante altre novità che vi aspettano. Ci vediamo molto presto ovvero domani. Ciao!